Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio alla microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Per rapidità di fornitura e percentuale di fatture saldate rispetto al totale complessivo, la ASL Avezzano sul Monalacuila è la migliore in Abruzzo tra le aziende sanitarie nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi. Sono i dati forniti dal Ministero di Economia e Finanze, come si legge in una nota della ASL. Su 20.000 enti pubblici italiani l'azienda sanitaria del capoluogo abruzzese è la numero 420 in classifica. Delle altre tre ASL regionali l'unica promossa è quella di Teramo, staccata però di 67 posizioni e piazzatasi al 487 posto. Pescara e Chieti invece non sono riuscite a guadagnarsi un posto nella classifica. La Giunta regionale finanzierà con 580.000 euro i comuni del litorale abruzzese per consentire gli interventi urgenti di ripristino degli arenili in vista della stagione turistica estiva. Lo ha comunicato il presidente della Giunta regionale D'Alfonso che con l'assessore Donato Di Matteo ha incontrato stamattina a Pescara i rappresentanti delle amministrazioni comunali costiere. Per il programma delle opere la regione ha richiesto un finanziamento complessivo al Ministero dell'Ambiente di 58 milioni di euro. La provincia di Pescara comunica che la regione Abruzzo ha stanziato la somma di 250.000 euro per sopperire ai problemi che si sono verificati sulla strada regionale 539 e sulla strada provinciale Manoppello-Letto-Manoppello dopo le avversità atmosferiche del 2015. In seguito al maltempo della primavera scorsa infatti importanti movimenti franosi hanno interessato il territorio tra Manoppello e Letto-Manoppello con gravi problemi alla circolazione stradale diventata critica proprio in prossimità di destinazioni turistico-religiose molto frequentate come il Volto Santo di Manoppello e l'Abbazia di Santa Maria a Rabona. Un potenziamento del ruolo dell'autorità di bacino regionale come presidio per garantire la tutela del territorio e di conseguenza la sicurezza dei cittadini è una delle richieste avanzate al Presidente D'Alfonso della Regione dai rappresentanti degli ordini dei geologi regionali. Nell'incontro è stato chiesto anche un aggiornamento delle leggi regionali di riferimento in vigore dal 2005 che non terrebbero conto delle novità introdotte con le recenti modifiche alla normativa nazionale. Il Presidente dell'Ordine regionale dei geologi, Nicola Tullo, ha spiegato che la riforma nazionale del settore ha accorpato l'autorità di bacino a quella abruzzese e a quella del Lazio, prevedendone la sede a Roma. La Polizia Provinciale di Pescara sta controllando in prima persona le attività del sansificio. Quanto meno lo sta facendo da ieri, subito dopo aver ricevuto l'invito e controlli da parte del sindaco Marco Alessandrini. L'impianto è attualmente fermo. Con sicurezza, afferma il comandante della Polizia Giulio Onorati, possiamo affermare che, almeno da ieri mattina ad oggi, l'impianto di strada vicinale Torretta è rimasto spento. I controlli, fa sapere il comandante, continueranno periodicamente e a sorpresa, al di là delle segnalazioni dei cittadini e delle associazioni. L'importante, dice Onorati, è che chi sospetta l'avvenuta accensione dell'impianto, chiami immediatamente le forze dell'Ordine. L'inclusione sociale e lavorativa, come garanzia del diritto a una vita adulta, partecipata e integrata nella comunità anche per i giovani con disabilità, è l'obiettivo del centro di urno Vittoria, la città dei ragazzi di Alanno, voluto dall'Associazione Omonima e dalla cooperativa sociale consortile Lagorà d'Italia. La struttura, che si trova in contrada oratorio Santa Maria delle Grazie, sarà inaugurata sabato alle 10, con una cerimonia a cui parteciperanno il sindaco De Melis, la senatrice Chiavaroli, sottosegretario della giustizia, il vicepresidente della provincia di Lorito, il presidente dell'Ordine degli assistenti sociali dell'Abruzzo, Pelleschi, e altre autorità civili e militari, mentre la benedizione dei locali sarà impartita da Don Nicola della Rocca, parroco di Alanno. In vista del voto referendario di domenica, il settore servizi demografici e statistica del Comune di Pescara ha affidato al Comitato Provinciale di Pescara della Croce Rossa italiana l'incarico del servizio trasporto disabili ai seggi elettorali. Potranno fare richiesta ai disabili con gravi problemi di deambulazione e che non hanno altro tipo di accompagnamento. Per usufruire del servizio si invita a chiamare il vettore ai numeri 085 20 56 258, ripetiamo, 085 20 56 258, oppure al cellulare il signor Alfredo Bellitti, il cui numero è 338 33 52 134, ripetiamo, 338 33 52 134, questo per quanto riguarda la possibilità per i disabili di Pescara di votare domenica al referendum. L'arte è come chiave per il rilancio culturale, turistico ed economico di Montesilvano e su questo presupposto che si fonda uno dei progetti elaborati dall'amministrazione comunale. Montesilvano ha una risorsa paesaggistica non indifferente, spiega l'assessore alla cultura De Martinis. La parte alta della città infatti può rappresentare un tesoro prezioso per tutta Montesilvano. Il nostro obiettivo è rendere il borgo un vero scrigno d'arte. Abbiamo già avviato un'interlocuzione, afferma il vice sindaco, con operatori economici del territorio, che si sono dichiarati interessati e disponibili ad investire risorse per la riqualificazione in chiave culturale del nostro borgo. La città dell'Aquila ospiterà dal 26 al 28 maggio prossimi la quindicesima edizione del concorso enologico internazionale e la selezione del sindaco a cura dell'Associazione Città del Vino. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Vinitali di Verona, nell'area istituzionale della regione Abruzzo, alla presenza dell'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe, del presidente dell'Associazione Città del Vino, Floriano Zambon, e del sindaco di Taranta Peligna, in provincia di Chieti, Marcello Di Martino, in qualità di responsabile organizzativo dell'evento. Una giornata di prevenzione dedicata al tema della nutrizione sana e del rapporto tra peso, corporeo e salute. È quella che si svolgerà sabato dalle 9.30 alle 12.30 nel centro Fisioterra di Via Davalos 9 a Pescara, con partecipazione gratuita. Gli utenti potranno incontrare la dottoressa Stefania Plessi, specialista in medicina interna, master in dietologia e nutrizione, che affronterà tutti gli aspetti legati a una sana alimentazione, illustrando anche i rischi delle diete fatte in casa e l'importanza di associare alla dieta l'attività sportiva. Lo ha annunciato la dottoressa Giovanna D'Innocenzo, direttore generale dei centri Fisioterra. Hashtag PA Social, nuovi linguaggi per cittadini e amministrazioni è il tema del convegno che si svolgerà venerdì dalle 10 alle 14 nell'Aula Federico Caffè presso l'Università degli Studi d'Annunzio in Viale Pindaro 42 a Pescara, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo con il patrocinio dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Esperienze di pubbliche amministrazioni nazionali e locali si confronteranno sulla comunicazione online, rappresentando un panorama che va consolidandosi e ampliandosi e in questo caso, innovando ulteriormente il rapporto tra cittadini ed enti pubblici, saranno presi in esame sia i social network più diffusi come Facebook e Twitter, sia le chat come WhatsApp e Telegram. Terzo incontro domani alle 11 con gli studenti dell'Istituto Tecnico Acerbo di Pescara nell'ambito del progetto Sistema Salute promosso dalla Lilt, la Lega Italiana Lotta ai Tumori, sezione di Pescara. Al centro del nuovo appuntamento ci saranno fumo, alcol, HPV nei tumori, testa a collo e prevenzione oncologica. E a incontrare i ragazzi nell'aulamagna della scuola saranno, con il presidente Marco Lombardo, coordinatore della Lilt Abruzzo, il professor Claudio Caporale, primario del reparto di Otorino Laringoiatria dell'ospedale civile di Pescara, la psicologa Stella Mangiocco, la psiconcologa della Lilt Maria Di Domenico, la vicepresidente Lilt Milena Grosoli e la referente progetti scolastici Anna Maria Melis. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo poco nuvoloso a nuvoloso con temperature da 15 a 16 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo da sereno a poco nuvoloso con temperature di circa 18 gradi e 20 deboli. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 13 a 20 gradi sulla costa e da 13 a 22 gradi nelle zone interne e 20 deboli. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per essere stati con noi. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.